Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video Due terrenali Sono incapato di un boss E con questo oggetto sono scappato Perché dovevo fare il video Dovunque Essendo una viverna Vediamo di cambiare un po' di cose Eh, now Ok Dove sta? Eccola là Oh, come pecca Pucca Pucca Vichia No, non può essere No, non può essere No, non può essere Vichia No, non è quello che C'è un po' di ricerca Vichia 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 Grazie a tutti. forse deve suonare la campana? no lascia qualcosa si ma è piccolo cecco? eh si fanno culo ma la fanno cosa non sono l'anime no 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 i Mecchia Oh, cadio Cristo 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 Oh, niente. Ok. Grazie a tutti. Ma è giù? E' arrivato qua? Guarda un culo. Qua mi becca. Aspetta lì, forse. Ok, qua. Non si può. Qua mi becca. Dunque devo farlo fuori come i primi boss del primo source Ah No. Non so. Non so. A parte che è morto con un solo corpo. Un drago. Bene. E mo? Vabbè. Una boss fight. Termina qua. Boss fight. Tra piccolette. Ciao ciao. A Norrondo. Ok, ciao.